6 studenti, figli di dipendenti di Milano-Serravalle e Milano-Tangenziali, sono stati premiati con il riconoscimento intitolato a Claudio De Albertis, storico presidente di Ance, oltre che componente del Consiglio d'Amministrazione della società dal 2010 al 2016. Ai giovani, che si sono contraddistinti per merito nel proprio percorso scolastico, sono state consegnate le borse di studio nel corso di una cerimonia alla quale ha partecipato anche la figlia di De Albertis, regina presidente di Assimpre di Lance. Il mio padre è proprio ricordato in modo molto centrato attraverso questo premio, perché mio padre era un uomo che credeva tantissimo nel futuro e soprattutto nei giovani, quindi sempre gli spronava ad andare avanti e a cercare appunto di prepararsi con impegno, tenace e costanza per essere pronti per affrontare le sfide del mondo del domani. Il premio De Alberti sarà giunto al decimo anno di ricorrenza ed è frutto del progetto Autostrada del Sapere. Il presidente di Milano Serravalle, Beniamino Lopresti, e l'amministratore delegato Pietro Boiardi. Il mio desiderio manifestato agli assegnatari della borsa di studio, che sono figlie e figli di dipendenti di Milano Serravalle, è stato quello di invitare loro a proseguire, a permanere in questo anelito di conoscenza, nella dedizione costante, incessante al sapere, all'intelletto, a tutto ciò che rende gli uomini liberi e indipendenti, ossia il desiderio di guardare attraverso la conoscenza e il sapere ciò che non appare, ma che è conoscibile. Il premio si chiama Non a casa Autostrade del Sapere, appunto unisce l'aspetto diciamo un po' campanilistico della nostra società al concetto appunto del sapere, al concetto della crescita intellettuale. È un enorme piacere da parte nostra premiare figli di colleghi che hanno ricevuto risultati così eccellenti nel proprio percorso professionale e personale per il momento. Nello specifico sono stati premiati due studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, due che hanno raggiunto il traguardo della laurea triennale e due di quella magistrale. Sono contenta di quello che ho ottenuto perché comunque dopo tanti anni di sacrificio alla fine è una soddisfazione personale. Questo è un grande traguardo perché è come se venisse riconosciuto il lavoro che ho svolto in questi cinque anni. Mi sento di dire che sono contento di questo premio ricevuto.